Vendere casa necessita di una strategia e di un consulente esperto che ti guidi attraverso l'intero percorso di vendita. Devi sapere che la maggior parte degli acquirenti cerca casa online, quindi prepara la tua casa al meglio per presentarla adeguatamente sul web e ingaggia un fotografo o un videomaker professionista affinché possa illustrare le caratteristiche del tuo immobile. Per avere più visibilità sul mercato il consulente Remax sceglierà poi dove posizionare al meglio l'annuncio sui migliori portali immobiliari. Per conoscere il giusto prezzo del tuo appartamento mi raccomando fatti preparare dal tuo consulente un'analisi comparativa di mercato, avrai così un'idea chiara del reale valore della tua casa. Potenziali clienti invieranno le proposte di acquisto e il tuo consulente ti aiuterà a scegliere la migliore. In conclusione una volta accettata l'offerta e fatto l'atto di compravendita ricevi il tuo denaro, consegni le chiavi di casa e festeggi!